Grazie a una percentuale di votanti nel turno di ballottaggio di poco inferiore al 44%, tutti con il fiato sospeso nella città di Brindisi, circa l'esito delle urne. Alla fine, però, ha avuto la meglio il candidato sindaco del centrodestra, Pino Marchionna, che ha ottenuto 16.814 voti, pari al 53,99%, contro i 14.328 voti del suo avversario Roberto Fusco, pari al 46,01%. Un distacco di circa 2.500 voti, che si è manifestato sin dalle prime battute dello spoglio, facendo gridare alla vittoria i sostenitori di Marchionna, il candidato fortemente voluto da Mauro Dattis, alla guida della città, nonostante le divisioni della vigilia all'interno del centrodestra. Entrambi i candidati si sono presentati alle urne senza sottoscrivere apparentamenti con Lino Luperti e Riccardo Rossi. Per Fusco, comunque, la piccola soddisfazione è di aver ottenuto circa 800 voti in più rispetto al primo turno, nonostante il calo di effluenza. È un dato che dà per perdente la proposta fatta alla città, però con un dato significativo di consenso. La proposta era molto nuova e molto collegata alla transizione ecologica, all'uscita dal fossile, all'attrarre nuovi investimenti proprio sulla transizione ecologica digitale. Le novità delle volte devono incrociare i tempi e delle volte quando i tempi non sono quelli giusti si rischia di non vincere. E non abbiamo vinto gli auguri e i complimenti al sindaco Marchion, raccomandandogli veramente con intensità un'attenzione non solo all'intera città, di cui lui sarà il sindaco, ma soprattutto alle periferie. Per Marchion invece la gioia di un bagno di folle in Piazza Vittoria, avendo al suo fianco i parlamentari di Forza Italia Mauro D'Artis e Andrea Caroppo, oltre ai dirigenti di tutte le altre forze politiche di centrodestra. Siamo tutti molto contenti e felici, abbiamo riproposto questa alleanza che ha avuto la capacità di allargarsi in maniera significativa e adesso toccherà mantenere gli impegni che abbiamo assunto, primo tra tutti quello di ristaurare un rapporto di fiducia, di collaborazione e di confronto con la popolazione. Ha già in mente una scuola di governo? No, al momento ancora no, mi sembra un po' prematuro, comunque non ho grandi preoccupazioni perché questa coalizione ha già dimostrato in piena campagna elettorale, nel primo e nel secondo turno, di essere molto coesa, di essere molto solidale al proprio interno, una soddisfazione straordinaria quella di portare in consiglio 20 consiglieri comunali, metà dei quali sono alla prima esperienza con molte donne e quindi anche questo è un elemento di novità in questo panorama. Che sono stato il sindaco più giovane di questa città mi avvio a essere anche quello più vecchio, cioè questa cosa di avere due record nella stessa persona è incredibile, però a una cosa tengo principalmente quella di essere il sindaco di questo popolo perché questo è l'unica cosa che mi ha convinto ad accettare questa scommessa che era una scommessa difficile, complicata come avete avuto modo di vedere ma che alla fine siamo riusciti a vincere. Grazie.